buongiorno buongiorno un cazzo ma perché ma come perché buongiorno un cazzo ma perché ma come perché ma questa trombata lì ma buongiornissimo ma quel buongiorno che da mo che buongiorno fa una sega che stai fai la sega che stai fai la sega che stai fai la sega la sega la sega che stai fai la sacco di coglioni ma dimmi che stai fai mia la sega questa carta vetrata fermetì che stai fai questa carta non c'è la magia la tolla martella dentro la valla va via questo cazzetto che va a metter i calcetti eh davvero va via questo cazzetto eh tocca a metter i calcettini bravo nipote vai le strappe tutte o piano piano da che è una cosa è una notizia di stamattina è papa si è dimesso ma se dimette se dimette dammi retta un regalo qualcosa qualcosa di raro fermate che lo mangi i lati no to mannaggia la madonna ma guarda che imbecila e che è? è un uovettino fermate che costa i soldi è un uovettino vattene a dio scalzo no no questa è barra attenzione è il decimo del primo tempo si stanno consultando ha detto scalzo vediamo ed è per questa volta ammonito ma perchè scalzo non va bene no vattene hai visto tu con le scarpe e no ma dov'è adesso tu oh eh boh boh che ora fatti fammi venire al bagnetto con te la si oh no fammi venire al bagno con te oh no eh no l'arbitro è sotto la doccia sotto la doccia sotto la doccia sotto la doccia oggi non c'avevo l'ipad sopra e faccio così sotto la doccia c'è un elicottero sotto la doccia sotto la doccia oh no che stai facendo? nooo eh? no sta pieno no vabbè davvero sta pieno ma sta pieno di che? è pieno di f*** mamma mia ma fammi eh fammi guardia guardia guarda bene bello avvicinato eh? sta pieno guarda ma sta pieno guarda che lavoro mamma mia proprio PSS ma che cazzo ne hai f*** io ho una verga ah 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 ma che me hai f***o ma c'è ma stronzolo stronzolo ma che me hai f***o ma perche non voglio che ne f***a! ma vai che la pulisci? ma come la pulisci? come che la pulisci? dai mettilo! ma che metto? guarda come ride sotto i pappi tu che scemo! tu! vado al professore! ma perchè? ci vuole molto un po' che sei tutto scemo ma vaffanculo va! il maschera ma niente che hanno rischiazzato no il bastone no il maschera il maschera no 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 ci tu vede affanculo dove? affanculo dove? affanculo adesso posso che vuole fare? sto scherzo ma donna sta pieno oggi ma vovo i spites nikes triditz fritz nikes nicknitz guardano tutti male no madre lingua tedesco il pincher da retta al top ragazzi siete pronti sta giornata buona giornata a tutti forza eh che alle 13 uscirà il video di ibra che andrà a far parte dei santini nonna maria quindi ricordatevi vi voglio belli cariche ragazzi perchè questo è un video glamoroso l'ho già fatto vedere a qualcuno è top pronostici calcistici al top seguite il mio amico Gianluca Sambuca grandissimo vi lascio anche la scherina che ha vinto pochi giorni fa andate a seguire e guardate tutti i suoi pronostici a parte il nome è fighissimo Gianluca Sambuca vi faccio questa storia che carletta è andata figa pelosa e ha lasciato il cellulare qua arrivederci arrivederci secondo voi potevo lasciare da solo il nonnino oh vattene che te la donna scherciata con l'acqua eh eh comunque è bravo no fa un po' le cose da me non me la partita ma che gli hai detto dai coccodrilli? dove era andato? a figa nooo mannaggia mannaggia vattene mannaggia ah chi ha piace però ti trama le mani ma tu a figa non c'è più che ti affiasca io non pensate qui voglio dormire qui imbecille imbecille voglio dormire qui che sacco di coglioni ma voglio dormire qui ma vaffanculo va a dormire che è una bella sorga ma perché fammi dormire con te mettala per spostare tutto il letto s***** di coglioni ma fammi dormire con te ma vaffanculo va ma fammi dormire con te ma vaffanculo va ma vaffanculo va ti posso mettere il pigiamino? no dai me lo mette niente che ti posso fare? che ti posso fare? niente che ti posso fare? oh oh finalmente oh non dormiremo niente non dormiremo niente non dormiremo niente no c'è tanto sopra eh che gliela fa? niente che fa? ti fa il pennello no arde 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 qui che c'ha il nuco ma ti fa il pennello ah ti fa il pennello ma vedere il messa perché ti fai vedere le storie ma lei fa vedere le storie si dammi il tablet no 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 non posso fare niente fino alle 1 ma io sono venuto a dormire presto di solito sempre a mezzanotte stasera che era presto c'ho sto stronzo che vuole andare presto che vuole andare presto dove vuole dormire non vuole fannino fannino con te fino alle 2 no no fino fino alle 2 fino alle 2 guarda come rido gg rido rido fino alle 2 raccontami una storia oh va via me racconti me racconti o no? vattene me racconti me racconti che cazzo mi racconti va via le mani no l'ha detto ah vado va via va via va via va via tira tutto al coperto io ma volevo andare a dormire vi giuro posso andare a dormire o no? se non ci vuoi Fausti ci vuoi? ma fai il culo ah vero no? io no volevo sta contenoretta si ti volevo tocca la trippetta e ma domani sera mi venghi chiudo ti volevo volevo sentir il pacchetto eh speciali dalla cristoteca c'è il bar ci sono tutti era tanto che non vi salutavo dalla cristoteca vi auguro una buona notte e niente ci vediamo domani coccodrilli sempre più carichi ti auguri è il compleanno di come ti chiamo? chiara chiara carli incredibile gli auguri fatele gli auguri tutti quanti mi raccomando vi do anche il numero tre treppini sette nove due cinque nove punzi e sette tricchi picchi è il compleanno e basta rotto il cazzo va a dormire adesso va a dormire gli auguri così lo so e quanti anni fa? ah venticinque anni dichiara carli incredibile l'ho già fatto dieci giorni fa quindi sto apposto ah che compleanno che spesso solo gli auguri Cumpleanno low cost Non è vero Però fate il regalo prima Poi fregate bene il cazzo